Ciao a tutti. Quello che vi voglio raccontare è un Gesù vivente e che ci aiuta e ci guida in ogni momento della nostra vita. Nonostante io sia nata in una famiglia di credenti quando ero più giovane, ho cercato in modo un po' orgoglioso la felicità in tante cose, nelle amicizie, nei divertimenti e per tanti anni non ho voluto saperne del Signore ma Dio è sempre stato accanto a me. Ora lo so e non ha mai permesso che nonostante io mi sia infilata in tante situazioni pericolose, Lui è sempre stato a fianco a me, non ha mai permesso che succedesse niente di male. Dopo tanti anni il Signore ha iniziato a parlare al mio cuore, o meglio io ho iniziato a ascoltare il Signore, ho iniziato a leggere la Bibbia, ho iniziato ad andare in chiesa e posso dire che ho trovato la vera felicità. Quando mi sono accostato a Lui sinceramente, l'ho cercato con tutto il cuore, ho sentito una voce che mi diceva inginocchiati e prega. In un istante sono scomparse tutte le paure, ringrazio e posso dirvi accostatevi a Lui, qualsiasi sia il vostro problema. Voglio lasciarvi con un versetto che si trova in Primo Giovanni 4, affinché per mezzo di Lui vivessimo. La vera vita si trova solo nel Signore. Signore, ci vediamo.